Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi apriamo la seconda casalla. Cosa ti sorrò nella seconda casalla? Ok, prendiamo. Spediamo la lettera Babbo Natale. È giunta l'ora di spedire la lettera Babbo Natale. Sì, perché si spedisce proprio oggi. Il primo di dicembre? Sì, il primo di dicembre. Allora andiamo a prendere la lettera, scriviamo e spediamo. Hai scritto la lettera Babbo Natale? Sì. Hai finito? Ah, abbiamo anche la penna magica. Chissà se ti porta tutti i regali con quello scritto con quella penna magica lì. Cos'hai chiesto allora Babbo Natale? Ok, la nuova occasione di Barbie con l'occhio suone. Oh, gigantesca, ci starà in camera? Sì, sì, c'è sta, c'è sta. C'è sta, c'è sta. Poi? Cucina di Barbie. La cucina di Barbie? Sì, non la cucina gigantesca, però qui. Ah, ok. Illustrante di Barbie. Aspetta, la maglia con gesti e pennarelli. C'è una parte sui gesti e dall'altra con Barbie. Ah, wow. Il ristorante di Barbie. Tutto Barbie? Sì. Aiuto. Bamba, un lego di Hermione. Belle. E basta. 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 Ho più scritto con amore Sofia, dove abito il mio cognome. e poi... Basta, gli hai fatto qualche disegnetto, mi pare. No, gli hai messo gli adesivi? Sì, gli hai messo gli adesivi. Vediamo. Fai a vedere un attimo la lettra. Questa qui l'ho stampata io. Riesci a darmela? Su il mio profilo Instagram ho fatto un freebie e regalavo questa a chi iniziava a seguirmi su Instagram. Quindi l'ho stampata anche per Sofia. Bravo, Monello. Sofia, cosa ha messo? Credo di essere stata brava, per questo ti chiedo queste cose qui. Due, quattro, cinque cose poteva chiedere. Così. Ce ne sarebbero tantissime, ma... Vero? Dobbiamo accontentarci di cinque. Quindi stasera... Esatto. Quindi stasera la piegherò... Aspetta, ora la piego. Dopo la metto sotto il cuscino e vediamo se va a buona. Se la porta via? In realtà. Se sei stata brava, probabilmente sì. Sì, scrivo per Babbo Natale. Meglio va. Che mai... La prendo io? La prende papà? Oppure la prende... Oppure la prende... Oppure la prende... La fattina del dentino. La fattina del dentino? La Befana in anticipo? Ah no, la Befana non prende le lettere. La fattina del dentino? Viene perché crede di prendere quei denti lì davanti e invece prende la lettera di Babbo Natale. Per Babbo Natale. Polo Nord? Via Polo Nord? A me è via Polo Nord. Che via è secondo te? Che via abiterà Polo Nord? Secondo voi quale sarà la via di Babbo Natale? Qui sarà via Ghiaccio. Via Ghiaccio? Via Ghiaccio. Stai facendo anche i disegnetti? Stai un po' prendendo. Ah, ok. Quando sei pronta lo andiamo a mettere sotto al cuscino? Sono pronta! Andiamo a metterlo sotto al cuscino! Eccoci pronte, vai! Loro lo vedranno Babbo Natale? Loro si! C'è una volta il mio coltellino, il mio gigantesco, ha regalato il 2018 Natale. C'è una scala, c'è un pacchetto. E dopo... Loro era per me. Guardate dentro, ho tirato qua le cipollette. Lui gigantesco. Vai, metti la lettera sotto. E domani vediamo se Babbo se l'è portata via. Sì! Sì! Quindi, vi salutiamo unicornini! A tutti questi cipolletti! Domani ci vediamo per il numero 3 e vi diremo se Babbo Natale ha ritirato la lettera. Ciao! Alla prossima! Iscrivetevi al canale, mettete tanti like e attivate la campanella. Ciao! E fateci sapere nei commenti voi cosa avete chiesto a Babbo Natale. Sì, sì, tante cose. Ciao ciao! Ciao ciao!